E ci va solo? No, viene anche la mia fidanzata. Allora buon divertimento. Ma non siamo soli, vengono altri nostri amici. Cerchi di non annoiarsi. Venga a vedere quanto è bello il signor Ferdinando. Simpatici tutti e due, alti. L'uomo alto fa sempre la sua figura. Per me al di sotto di un metro e settanta non sono più uomini. È una di quelle che bisogna prima sposare. Ma, sarò ignorante, ma certe cose non le capisco. È come entrare in un bar e chiedere un caffè. E quelli ti dicono, no, o compra tutto il negozio o niente. Proprio così. Allora basta. No. E basta lei diete lo sportello aperto. E io lo richiudo. Sì. E glielo dica che così andiamo via. Chi è zitto lei? Su, dillo. Mi hai stufata. Sì, in tutto. Hai capito. A vederlo non si direbbe. Nessuno. Sai, forse mi sono dimenticato la radio accesa. Ma cosa ti succede? Hai visto che l'avevo veramente dimenticata. Mia cugina, la mia fidanzata. Molto piacere, signorina. Ciao. Ciao. Buonasera, reverendo. Figliuola. Le piace? Quale?